Comunità che camminano insieme, unite dalla fede per i martiri turritani, da più di 1700 anni, punto di riferimento per Porto Torres, Sassari e diversi comuni dell'isola. E' il filo conduttore della nuova edizione della festa manna che si terrà a Porto Torres dall'8 al 10 giugno. Tanti riti religiosi in programma nel fine settimana, quando si rinnoverà la devozione verso i Santi, Gavino, Protto e Giannuario, decapitati nell'antica Turris Libisonis nel 303 d.C. Alle celebrazioni si accompagneranno diversi eventi collaterali promossi sia dal comune di Porto Torres che dalle associazioni cittadine. Si inizierà sabato alle 22.30 con il cammino della notte di Pentecoste da Sassari a Porto Torres. Il pellegrinaggio notturno inizierà dal Duomo di Sassari e arriverà in Basilica intorno alle 3 del mattino. Lunedì 10 alle 10.30 presieduta dall'arcivescovo Gianfranco Sabba e concelebrata dal capitolo turritano la Santa Messa in Basilica e la processione verso il mare. Un rito che risale a diversi secoli fa e che Canale 12 ci seguirà in diretta sul digitale terrestre sulla pagina Facebook e sul sito della Curia.